Ciao biscottini, in questo video per il meet up mi sono ispirata all'outfit e quindi vi mostrerò tutto. E' il primo video così che c'è di questo genere e spero che ovviamente sia di vostro gratimento. Se si, fatemelo sapere con un commento sotto e cercherò di farne molti altri. Per il momento vediamo come ho realizzato il make up occhi. Allora, subito dopo aver fatto la solita base applico un rosa chiaro matte solo nell'angolo interno dell'occhio. E con un fucsia, su tutto il resto della palpebra, anche oltre la piega dell'occhio, in modo che ci troviamo già una sfumatura semifatta insomma. Con un vinaccio molto più scuro, intensifico il colore da metà palpebra fino all'angolo esterno e nella piega. Riprendo il fucsia e lo passo a metà palpebra, in modo da creare questo contrasto di colori sulla palpebra. Ripasso con un ombretto bianco sull'angolo interno, in modo da cominciare a dare l'illuminazione giusta. Prendo un ombretto nero e vado ad applicarlo nella piega dell'occhio e nell'angolo esterno, in modo da ottenere così un, diciamo, occhio da gatto. Vado a togliere lo scotch e vado a ripulire la parte con un po' di cipria. Con la matita creo, prima la applico all'interno dell'occhio, sia sopra che sotto, e poi vado a fare una linea a modi eyeliner, perché come sapete io l'eyeliner non lo utilizzo, quindi uso solo le matite, e vado a creare una bella coda. Ora con il pennellino piccolo a punta fina e l'ombretto nero che abbiamo utilizzato prima, vado ad allungare la coda della linea e vado a sfumarla con l'ombretto, in modo da creare un tutt'uno. Fumo e applico il nero fin quando non sono soddisfatta del risultato ottenuto, in questo caso io credo di fermarmi qui. E vado a ripassare con il fucsia a metà palpebra, in modo da far vedere questo contrasto di colori appunto. Lo applico anche oltre la piega dell'occhio e vado a prendere il matitone della Kiko e vado ad illuminare l'angolo interno, inferiore e superiore, e sotto l'arcata sopraccigliare, e vado a ripassarci sopra con un ombretto bianco un po' glitterato. Avendo utilizzato tutti i matt, sapete che io sono un po'... non diciamo, non contro il matt, ma quasi. Ripasso anche qui fin quando non sono soddisfatta dell'illuminazione. E vado anche a ripassare un po' sulla linea di eyeliner, che con il bianco si è un po' scolorita. Fumo bene anche nell'arima inferiore. E vado col mascara, questo è, come sapete già lo conoscete, è il mio preferito. Questo è il risultato finale di questo make-up, insomma. Io, come al solito, spero che vi piaccia. E ora andremo a vedere quale altre cose ho utilizzato sia per il make-up che per l'outfit. Sulle gote ho messo solo un po' di blush, che infatti dalla telecamera non si direbbe. E sulle labbra ho utilizzato, mi sono tenuta un po' sul chiaro, tanto utilizzare un rossetto rosa molto molto chiaro. Come outfit c'è questa maglietta a collo alto, perché ancora non mi dico a sfogliarmi un po' di più. E color fuxi, appunto, color di braccio scuro. Ho utilizzato questa magliettina molto carinissima. E un pantacollante nero, un leggings nero. E non vi ho affatto vedere le rifiniture del pantacollante, ma aveva delle rote tutte carine, insomma. Come accessori ho utilizzato questo Simis Varossi fuxia con la retina nera, in modo che riprende proprio tutto l'outfit. E come orecchini, questi con delle farfalline fuxia e argento, che ho comprato apposta. Non per quest'outfit, però in generale mi piacevano. E niente, ho finito il look con quella borsa nera che avete visto anche nell'altro video, appunto, e questi occhiali qui. Semplicissimo, io spero che, ecco, mi ripeto, vi piaccia. E noi ci vediamo al prossimo video. Io intanto vi mando un bacio e fatemi sapere cosa ne pensate di questo, così appunto ne farò altri. Ciao a tutti, ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti!